Truppe di giornalisti italiani che fanno finti servizi in Olanda per far credere che la gente porta la mascherina. Prendono gli attori, tutti con la mascherina e fanno i video dove si inventano le situazioni che gli torna comodo, invece la realtà è un'altra, questa è la realtà e quelli invece sono gli attori italiani pagati dal nostro fantastico governo per inventare scene, guarda, fanno passare la gente come se fosse una situazione normale che loro sono lì per caso a riprendere e invece è una scena costruita, perché invece l'Olanda è così.